Grazie Grazie Lascia che infatti noi non li raccomandiamo Certo Però che ci ha secca il saluto Che ci ha secca come ti è andata l'interrogazione Capito? Civiltà La leggera civiltà Ci deve essere proprio per conti Vista, vada, vada Vista, vada Vista, vada Vista, vada Vista 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 E poi ha invitato E poi ha invitato E se qui Manuela Allora, ho detto, vedi Manuela e Neva per stare utanta Aveva fatto le medie Cioè, c'è una serie di gassoni Questo significa che le vado a me Non c'è un'interessuale Non c'è un'interessuale Spettrice Ma mamma, non c'è un numero Non c'è una mamma Eva No Ma No 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 Sì.